eccoci qua ciao a tutti ben ritrovati adesso marco lippi lo conoscete però ve lo presento di nuovo anche perché oggi parliamo di lui e facciamo parlare a lui allora questa è la prima di una serie che voglio provare a fare spero di riuscire a essere continuo la vita spesso non lo permette per cui se ci saranno delle interruzioni mi scuserete o come disse quell'altro polacco mi scorreggerete e qual è l'intenzione l'intenzione di fare due chiacchiere anche un po provocatorie diciamo in due parti prima lasciamo che l'invitato ci racconti tranquillamente di se stesso poi proviamo un po provocarlo sulle cose che ha studiato sulle cose che ha scritto di colleghi alcuni più amici altri meno alcuni conosco bene altri conosco meno bene ma che io considero molto rappresentativi della ricerca economica o economico sociale facciano solo necessariamente economisti italiana che io ho vissuto io ho studiato con cui mi sono sovrapposto in questo caso da studente per lo meno per la parte iniziale ecco allora iniziamo con marco lippi marco lippi l'avete chi segue il canale a liberi oltre l'avete proprio conosciuto pochi giorni fa con una lezione sulle prove della trasformazione i prezzi lo sfruttamento sraffa ma oggi parliamo di lui e invece di essere io a descriverlo chiedo a marco raccontaci se è rilevante il background o se vuoi iniziare dalla laurea in matematica inizia la laurea in matematica ma insomma raccontaci come sei arrivato all'economia interessarti del se ho capito bene il tuo primo argomento di interesse stato l'economia marxista ecco comincio e allora ieri ho già raccontato degli anni sessanta riparto da lì riparto da quando io ero un bravo studente di economia e comunista negli anni sessanta che significava intanto essere un bravo studente i comunisti ci tenevano moltissimo al fatto che uno facesse gli esami li facesse bene insomma desse lustro al desse lustro al partito e poi un giovane comunista giovane comunista allora significava soprattutto fare una vita di comunista universitario c'era la riforma dell'università che alleggiava e perché naturalmente si cominciava a percepire il fatto che l'università non poteva essere non poteva continuare ad essere com'era si cominciava a percepire il fatto che questo è quindi pre 68 questo è pre 68 certo 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 e quindi dice comunista dice proprio partito comunista perché molte tipo me siamo arrivati a quelle posizioni sì sì no no io sono un un giovane comunista molto ortodosso molto ortodosso molto ortodosso nel senso di adesione alla linea del partito comunista italiano la quale ha abbandonato la idea di una rivoluzione armata adesso per semplificare le cose e crede fermamente e diffonde tra i suoi militanti l'idea che il socialismo in occidente si possa solo ottenere attraverso il metodo democratico vincere le elezioni allearsi con altri partiti alleare la classe operaia con altri ceti sociali e fare riforme di struttura come si diceva allora è uno schema molto molto semplice molto riforme di struttura significa eh grandi nazionalizzazioni contrasto ai grandi monopoli eh eh introduzione di eh norme che salvaguardino i lavoratori nelle fabbriche eccetera eccetera insomma ecco queste sono le riforme di struttura scusate pianificazione economica naturalmente ma non nel senso dell'unione sovietica ma nel senso di una programmazione che eh eh indirizzi il capitalismo eh eh nelle eh indirizzi il capitalismo verso eh gli interessi della gran parte dei eh cittadini vedete sto parlando proprio col linguaggio che si parlava allora si usava molto cittadini non si diceva compagni si citava la classe operaia ma senza esagerare e e e così via ora questo questo come Michele sa bene era causa del della nascita e della crescita di gruppi di opposizione sia all'interno del partito comunista ma soprattutto all'esterno soprattutto all'esterno uno di questi è eh poter operaio eh scusatemi si chiamerà dopo poter operaio a quel tempo si chiamava quaderni rossi erano gli operaisti di quaderni rossi Raniero Panzieri era il eh la la persona più rappresentativa di questo gruppo e gli operaisti erano eh potrei citare il modo in cui finisce il famoso libro di eh Tronti eh intitolato operaia capitale se non ricordo male posso sbagliarmi famoso libro di Tronti che finisce dopo è un libro ponderoso e finisce dicendo ma insomma ma che fine ha fatto la classe operaia ecco questo era l'atteggiamento dei l'atteggiamento in paradiso eh l'atteggiamento dei eh dei dissidenti poi c'erano i trotschisti che invece erano eh non lontanissimi dal partito comunista italiano come impostazione perché sono leninisti quindi hanno ecco loro loro sono il contrario di un operaista hanno molto il senso delle alleanze che sono necessarie alla classe operaia per affermarsi c'erano i trotschisti poi c'erano gli internazionalisti beh qui c'è Cuba c'è l'Algeria eh c'è il Vietnam no? Allora gli internazionalisti sono quelli che pensano che la rivoluzione non possa più essere realizzata nei paesi sviluppati qui la classe operaia è stata ormai addormentata da tempo eh e tuttavia e tuttavia eh eh quello che gli operai non sanno è che il loro benessere mediante il quale sono stati addormentati viene dallo sfruttamento viene anche dallo sfruttamento dei paesi coloniali o escoloniali attraverso ragioni di scambio giuste attraverso sfruttamento diretto e così via questi sono gli internazionalisti questo è il quadro quando nel mille e novecento sessanta spero di non sbagliare eh eh comunque non è gravissimo dico sessantasei e spero di non sbagliare ah ecco scusate dimenticavo per per completare il quadro noi passavamo una gran parte della nostra vita a fare a cazzotti con i fascisti eh eh perché io sto adesso sto parlando dell'università di Roma c'era un po' Roma posso posso infilare sì 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 Roma era caratterizzata in quegli anni da una risorgenza forte di militari sì 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 dalle MSI ci sono delle famose foto per quello è quella quello che io considero a considerare il fucilatore Almirante che con un anello con nodoso bastone in mano e cappellino e impermeabile guida i giovani fascisti sulle scale della sapienza a menare questo questo sì sì adesso non so esattamente a quale episodio ti riferisci ma ce ne sono molti e sono talmente tanti questi episodi eh e soprattutto diciamo la grande differenza tra noi e loro è che noi siamo dei eh degli intellettuali magrolini molti con gli occhiali eh e nessuno dei noi è in grado di fare a botte se vogliamo dire le cose in maniera semplice loro sono capaci di ehm fare a cazzotti alla pa a cazzotti intendo dire abbastonate alla pari con noi ma fai conto dieci a duecento ecco loro si mettono in dieci no tirano fuori dei bastoni e caricano eh i giovani di sinistra questo è quello che accadde nel sessantasei comunque picchia eh oggi e picchia domani a un certo punto uno studente morì uno studente di sinistra morì ehm durante uno di questi scontri lui ehm prese qualche bastonata eh non morì per per le bastonate morì perché eh poveraccio lui eh svenne eh e si trovava sulla all'entrata della facoltà di lettere che non aveva una ringhiera e lui svenne cade di sotto e morì insomma ecco e allora occupammo l'università e questo fu l'inizio della riscossa almeno per quanto riguarda i fascisti tra l'occupa questa è l'occupazione di Paolo Rossi è famosa come l'occupazione di Paolo Rossi allora per quanto mi riguarda perché non sono adesso qui per fare la storia del movimento eh studentetto e studentesco del sessantotto siccome Michele mi chiede della mia storia eh eh io sono turbato molti sono turbati perché eh veniamo presi dal dubbio che forse non stiamo combinando niente insomma cioè questa è questo modo di eh fare politica nell'università che è tutto fatto di eh stretta osservanza eh della legalità sempre trovarsi in una posizione nella quale puoi dire sono loro che hanno cominciato insomma comincia a serpeggiare un atteggiamento di rivalza eh sia nei confronti dei fascisti come è ovvio ma anche di rivalza nei confronti del partito comunista che in qualche modo tarpa leali a chiunque voglia dire qualcosa che non sia appunto quello che bisogna sempre eh che bisogna sempre eh trovarsi dalla parte di chi è stato aggredito e così via e così comincia a eh sobollire la situazione questo eh ci sono questi gruppi internazionalisti troschisti operaisti che circolano e che fanno conoscere le loro idee che sono di forte contrasto nei confronti del partito comunista in questa fase io vengo avvicinato questo è molto è divertente se volete vengo avvicinato da un gruppo di eh comunisti comunisti del PC dissidenti i quali mi dicono ma tu sei un matematico dunque e sei anche un giovane intraprendente ti abbiamo visto nell'occupazione eh eh e perché non ti uniresti a noi per aiutarci con il problema della trasformazione perché noi sai vogliamo risolvere il problema c'è questo problema da sempre nella economia marxista c'è questo sraffa che noi disapproviamo completamente perché lui fa fuori i valori eccetera tu potresti aiutarci in questo e io vengo folgorato da questi eh compagni più più grandi di me eh con grande prestigio con fascino eh lottatori sindacalisti alcuni di loro e mi unisco a loro e eh davvero c'è sta io questa mi lo trovo piuttosto mi dà proprio la misura dell'ambiente intellettuale quel ambiente intellettuale io non l'ho mai visto anche politico forse era molto romano nel Veneto dove sono cresciuto io era diverso io il PC comunque lo vedo dieci anni dopo letteralmente sì 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 io lo vedo letteralmente dieci anni dopo quindi sono cambiate tante cose in mezzo c'è stato però qui sono persone non si vede di che i nomi se sono rilevanti e non ho tanto no nessuno di loro nessuno di loro è rilevante loro erano presi dalla rilevanza del libro di Sraffa che ricordo che ci ascolta era uscito circa sei sette otto anni prima sì 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 e dal problema della trasformazione incredibile che posso dire incredibile se ci pensi c'è un problema teorico matematico come abbiamo visto sì sì anche astratto è alla fine di irrilevante e importante cioè allora allora intanto il saggio del profitto cade o non cade tanto bisogna telefonare eh chiedagli allora il saggio del profitto cade o non cade ma per sapere se il saggio del profitto no 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 Michele tu devi devi immergerti in quegli anni qui siamo ancora allora cosa succede e il il marxismo in Italia in particolare sai in Italia il marxismo è importante insomma una c'è il partito comunista ci sono il marxismo però era stato in Italia eh eh studiato e sviluppato soprattutto da filosofi i quali non capivano assolutamente niente dell'economia come giusto che sia perché avrebbero dovuto no allora questi filosofi avevano nei confronti dei problemi relativi al saggio del profitto diciamo ancora un atteggiamento eh eh completamente fideistico marx ha detto così vuol dire che è così basta appunto noi ci occupiamo adesso di questo di questo e di quest'altro ci occupiamo dell'alienazione che sono cose che noi capiamo mentre gli economisti non ne sanno niente ci occupiamo dell'alienazione ci occupiamo del feticismo ma per quanto riguarda il saggio del profitto la sua caduta i prezzi eccetera questo eh marx ha detto in quel modo vuol dire che è così quando eh eh esce il libro di Sraffa l'atteggiamento è un atteggiamento misto diciamo cioè alcuni dicono boh ma che ne so ma chi è questo Piero Sraffa ah sì un amico di Gramsci boh ma non ho mai sentito nominare no cioè da una parte e dall'altra i più avvertiti dicono beh no però qui ci sono dei problemi bisogna bisogna capire quello che lui ha fatto quello che altri hanno fatto c'è Suisi c'è Borchievitz c'è insomma c'è c'è tante ci sono tante cose ecco siamo ancora lì capisci il libro di Sraffa non è stato minimamente digerito a quel tempo no cioè nessuno ha capito niente diciamo la verità insomma perché nessuno conosce un sistema di equazioni con un numero di incognite ma non hanno idea questo ho l'impressione sì che hai ragione cioè che questo spieghi molto l'ambiente intellettuale e in questo senso molto romano molto meridionale del PC dominato da eh sì dal post gentilismo alla fine ma questa è una cosa che con Adriano Palma chi chi mi segue nei colori di Adriano Palma anche Adriano Adriano filosofo viene dall'operaismo è mio coetaneo abbiamo sviscerato sbariate volte no la filosofia del PC l'ideologia del PC finché il PC poi succederanno le altre cose e smette di essere il PC è gentiliana è vero e non c'è tecnicismo non c'è tecnica dentro non c'è matematica non c'è non c'è ingegneria non c'è la fabbrica vera in realtà ma figurati non c'è 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 Bruno Trentin ecco il meglio che c'è c'è Bruno Trentin però Bruno Trentin è il figlio di Silvio Trentin non è il figlio di un metalmeccanico della Breda no 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 ma sai voglio dire lì ci sono appunto croce gentile sullo sfondo un atteggiamento ehm di ehm nella migliore delle ipotesi di sufficienza nei confronti delle scienze le quali uno scienziato è grosso modo come l'idraulico insomma no cioè uno fa sa fare delle cose è benissimo bravo ma non capisce niente insomma no non ecco quindi cosa vuoi che capisca di Carlo Marx uno uno scienziato c'è una grande eccezione secondo me questo è Lucio Colletti perché Lucio Colletti il quale neppure lui capisce niente neppure lui capisce niente di economia però lui ha invece ehm e qui in questo è della volpe lui è un allievo di della volpe lui ha un rispetto invece per le scienze ehm addirittura esagerato e quindi eh lui ha invece no lui attribuisce una grande importanza al Marx del saggio del profitto che cade o non cade poi c'è Napoleoni poi c'è Claudio Napoleoni che conosce l'economia è eh eh conosce l'economia conosce anche la filosofia eh insomma è un quadro eh sono pochi sono d'accordo e ricordo perché l'ho ricordato tempo fa leggendo in un pezzo Paolo Rossi che nel pc ma è vicino sì Galvano della Volpe ma Galvano della Volpe uno strano signore ne ho parlato per chi è interessato lo vado a leggere uno strano signore messinese eh eh sì sì che però nel pc cercando di avvicinare al al nessuno ha mai capito niente di quello che diceva della Volpe però bisognava citarlo bisognava citare citare nella Volpe era voglio dire insomma citarvi che chi aveva letto della Volpe era molto sofisticato ecco era vero anche quando avevo vent'anni io quando lo scoprì e lo lessi e fece uno beh insomma non era facilissimo ma chi è questo insomma io rimasi enormemente affascinato da questa proposta che loro mi facevano e eh mi misi a studiare l'economia 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 sì ma è ideologico studiavi matematica di cosa ti occupavi? Mi occupavo di eh geometria avevo fatto una tesi sulle geometrie finite e avevo eh vinto una borsa di studio per andare negli Stati Uniti a Chicago era un'ottima borsa era un'ottima borsa e eh che poi non ci sono andato no no non ci sono andato lasciando tutti trasecolati non ci andai non ci andai anche me anche me ora ah quindi pensate Marco lì viene in conto lavorato in matematica ha una borsa di studio per andare al dipartimento matematica in Chicago e no ok era venuto a Roma non so e io rimango non so se te lo ricordi è un matematico che stava a Chicago si chiamava Herstein che ha scritto una cosa con Debreu Herstein Debreu hanno scritto una cosa insieme che è uscita su econometrica sul teorema di Perron-Frobenius davano una dimostrazione elegante del teorema di Perron-Frobenius usando il teorema del punto fisso eh perché tu puoi vedere che una matrice eh non negativa una matrice non negativa necessariamente ha un autovalore eh e un autovalore non negativo positivo diciamo e un autovettore corrispondente pure lui non negativo questo è che poi è quella del teorema di von Neumann perché von Neumann che usa il punto fisso per la prima volta nel suo modello di creation 34 no per risolvere però però loro usavano Brouwer loro usavano Brouwer era la la versione originale del teorema usavano Brouwer perché se tu hai una matrice non negativa tu la puoi rappresentare come una trasformazione ehm dell'ortante positivo no cioè rimani là dentro e quindi se prendi la 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 retta che sta messa così c'è una trasformazione là dentro questo è chiuso ehm è convesso e tutto quello che vuoi applici il teorema di Brouwer e hai l'autovalore e l'autovettore eh però non credo che sia con allora siccome questo era tema vabbè dettagli allora Erspine perché è interessato a un bellissimo no no adesso ti no no ti ricordavo Erstein solo perché per dirti che come avevo Erstein stava era era per 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 dire a tutti che eh che in realtà è rilevante perché in quegli anni agli anni cinquanta ahm si discute molto si utilizzano molto questi strumenti eh l'economia scopre eh l'algebra lineare o matriciale se volete usare un termine che so che si usa in Italia e il teorema per un frobenius è cruciale tutta una serie di prove eh il mio maestro stesso lo usa e lo abusa no poverino non l'ha mai abusato ma lo usa abbondantemente McKenzie e c'è una sequenza di teoremi anche rilevanti provate da economisti matematici su appunto non negative non negative square matrices sì 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 Seraf se tu vuoi formalizzare bene Seraf quello è tutto per Onfromenius è tutto per Onfromenius è tutto sia chiaro tutto viene da Fornoyman eh perché tutto viene da Fornoyman che in questo famosissimo anche se poco noto articolo 34 scrive per la prima volta un sistema di produzione di equilibrio economico generale丸 di equilibrio economico generale multisettoriale sì che ha i prezzi che determina utilizzando appunto Peronfromenius Ma Kenzie è un allievo di Von Neumann? Sì, Lionel era un allievo proprio di tutti e due, sia di Von Neumann che di Morgenstern. Il suo direttore di tesi era di Morgenstern, perché Von Neumann al Dipartimento di Economia non c'era, ma c'era. Quindi dal punto di vista dei modelli di crescita è più un allievo di Von Neumann. Ma torniamo allora all'epiche... Mi metto a studiare queste cose, mi metto a studiare queste cose, poi mi succede questo, che a un certo punto però, io poi sono un matematico, quindi mi rompo le scatole poi di questa gente con cui non riuscivi a discutere delle cose, insomma, e a un certo punto mi libero di loro e cominciano a lavorare per conto mio su queste cose. Il caso vuole... Ti ho perso... La mia solita abitudine di chiudere... Nel frattempo come ti mantieni? No, no, io avevo nel frattempo un incarico universitario, un incarico universitario, prima di geometria a Perugia, poi di algebra a Roma, e poi adesso sto per dirti, incontro a un convegno su Marx, Luigi Spaventa, il quale Luigi Spaventa viene molto positivamente colpito dall'intervento che io faccio e mi dice ma ti interesserebbe venire al Dipartimento suo di Roma, di Statistica, al Dipartimento dove c'erano lui, Silo Slabini, diciamo lui e Silo Slabini fondamentalmente, e io dico sì, certo, eccomi qua, e vado, e vado. E quindi comincio una carriera universitaria completamente... No, completamente no, insomma, mi metto a insegnare, feci un corso su Sraffa insegnato matematicamente, questo fu il primo anno che feci lì, va bene? Ci siamo, siamo nel 1972 adesso, va bene? Quindi dal 66 siamo arrivati nel 72, ok? Bene, a questo punto però incontro i modenesi, i modenesi sono Fernando Vianello, Michele Salvati, Andrea Ginzburg, Sebastiano Brusco, questi sono Salvatore Biasco, va bene? i quali mi dicono, ma tu sai la matematica? Ma però scusa, scusa la matematica, un pochino di matematica alcuni si speravano che la sapessero, perché allora per spiegare nel 68 eccetera, ma dovete sapere che alla facoltà di economia di Cambridge questo Sraffa attira in quegli anni, Piero Sraffa attira in quegli anni proprio per quel libro, oltre che per il millier, insomma c'è Caldo, c'è John Robinson, così via, attira una serie di persone, al di là del fatto che la loro ricerca sia stata più o meno rilevante, molto brillanti, che italiani, che lavorano su questi temi. Luigi Spaventa stesso, credo se fosse, avesse un BCD da lì. Certo, certo. Il leader, da quello che ricordo, era Luigi Luciano Pasinetti, a Milanese, e a Roma il guru, se ricordo bene, di quel gruppo era Pierangelo Garegnani. Giusto? Beh no, Garegnani a quel tempo non era a Roma. Ah. No, Garegnani era a quel tempo a Pavia, a Pavia, venne a Roma più tardi, molto più tardi. Ah ok, ecco io invece l'ho, e quindi a Modena, per una serie di circostanze, si aggrega un gruppo di questi economisti, che Marco ha citato, e in quel periodo direi l'economia teorica italiana, che io comincio a conoscere, perché comincio a studiare alle giucchiare di economia, economia molto di orientamento marxista, ma comunque alle giucchiare di economia proprio quando avevo circa 16 anni, già nel 72, è dominante nel mondo accademico, no? Ci sono delle voci leggermente disidenti, sì lo Slappini stesso, che è di sinistra, però ha una visione un po' diversa, Lombardini e così via, ma comunque le persone dominanti sono queste. E Modena diventa, è vero, un faro. Vi posso dire che quando nel 76 decisi di passare da giurisprudenza a economia, seguendo il consiglio del buon Cacciari, io avrei voluto andare a Modena, solo che non potevo, perché dovevo stare a Venezia a dirigere la FGC, e quindi me ne rimasi a Venezia. Il che è un piccolo appunto sul fatto che nella... c'è una bellissima piccola autobiografia di Marco, che però non è pubblica, a Modena vi arrivava il meglio, non tutto il meglio, io non sono venuto. Hai ragione, hai ragione. Va bene. Allora vado a Modena. Adesso forse posso farla più breve qui, nel senso che a Modena finisco di lavorare su quello che avevo fatto su Marx e scrivo il libro su Marx che Michele ha così lodato ieri e di cui lo ringrazio ancora. Quindi scrivo il libro su Marx che questo libro è un libro in cui io prendo una posizione iper-sraffiana, cioè dico guardate che se voi leggete bene Sraffa vi rendete conto che il problema posto da Marx è un problema non solo che non ha soluzione, ma che neppure ha molto senso. Insomma vi rimando a quello che ho detto nella breve lezione fatta. Quello è un libro iper-sraffiano, un po' troppo, nel senso che mi varrà una scomunica da parte di Pierangelo Garegnani. Io sono stato scomunicato, cioè non potevo più prendere i sacramenti, non potevo più partecipare alla messa della fazione sraffiana della sinistra. Ah, questo è interessante. Perché non si doveva dire quella roba là? Cioè si doveva dire che... Lo sfruttamento, se sei di sinistra e pensi che ci sia lo sfruttamento, lo sfruttamento esiste indipendentemente dal fatto che i prezzi possano essere calcolati dal valore del lavoro. Questo va bene, questo è quello che ieri ho chiamato il teorema marziano fondamentale, ma questo, diciamo, no, quello che non si doveva dire era che i valori non servivano a niente, si doveva dire che i valori, è vero, dei difetti, ma erano uno dei modi che erano stati proposti dagli economisti classici in particolare per risolvere il problema della misura invariante del valore. Questo era quello che Sraffa aveva poi risolto con l'introduzione della merce tipo. O dicevi questo o eri scomunicato. Ecco, analiticamente posso chiedere perché tutto questo gruppo, tutto questo mondo, perché davvero sembra una deriva metafisica, no, una specie di enorme residuo filosofico metafisico, per cui tutto deve avere un'essenza che esiste a priori e dei varianti, non si capisce più che cazzo voglia dire, e quindi anche i prezzi. E quindi esistono, c'è un atteggiamento molto medievale, noto mistico, per cui si cerca un'essenza invariante. Perché questo mondo, cioè analiticamente, dov'è la cosa? Perché non può essere solo l'essere di sinistra. No, dunque, la storia è molto semplice da dire, perché allora Sraffa sostiene che... Allora, tu prendi un sistema economico molto semplice in cui vengono prodotti molti beni e ci sia una industria, che è quella che produce il grano, la quale usa come mezzo di produzione il grano stesso. Allora, il saggio del profitto è un rapporto tra quantità fisiche, perché il grano è il salario ed è il mezzo di produzione. Quindi il saggio del profitto è il grano che costituisce il prodotto netto tolti i salari diviso il grano anticipato. Questo è quello che Sraffa ritiene essere la convinzione di Riccardo. Questa è molto discussa dagli storici dell'economia, è molto contestato. Comunque, questo è quello che Sraffa pensa. Ora, però, è possibile fare qualcosa del genere in un sistema generale, in cui non ci sia grano prodotto a mezzo di grano? Sraffa sostiene di sì, nel senso che esiste una merce, è un autovettore della matrice dei coefficienti tecnici, la quale ha esattamente la stessa composizione dei suoi mezzi di produzione. E quindi, se scegliamo quella merce come misura, troviamo che il saggio del profitto si può determinare come rapporto tra due quantità fisiche di quella merce. Questa è la merce tipo. Questa è la merce tipo. Bada che Sraffa dice poi, a un certo punto, guardate che la merce tipo non serve assolutamente niente, è solo un modo che a me piace di dire le cose, ma se ne può fare assolutamente a meno. E questo era quello che io sostenevo e sostengo. Cioè, è carino, diciamo, ma lo stesso Sraffa ne parlava come di una curiosità. E lui dice, è una cosa molto divertente, che lui dice, io ho capito Riccardo solo quando ho trovato la merce tipo. Quando ho trovato la merce tipo, a cavolo, ma questo è quello che Riccardo andava cercando. E lo ha trovato, Riccardo, in un'economia stilizzata, semplificata, che è un'economia in cui vi sia un settore che produce usando solo il suo prodotto come mezzo di produzione. Cosa ovviamente particolare, non generale, ma l'idea è quella, insomma. Questa è tutta la storia. Invece, invece, Marx è un'altra cosa. Lui, la misura invariante del lavoro di Marx è il lavoro incorporato. Quindi Marx è diverso. Ma, diceva Garegnani, non ti azzardare a parlare male di Marx. Cioè, lui ha lo stesso obiettivo di Riccardo in un altro modo. Ecco, quindi, silenzio. Non ti azzardare mai più a dire queste cose. E fu scomunicato. E fu scomunicato. Questa è la vicenda. Oh, il mio libro ebbe in realtà un grande successo, pur soprattutto un successo negativo, nel senso che me ne dissero di tutti i colori, capito? Cioè, fui linciato da tutte le parti. Insomma. E, dunque, questo è il libro che arrivai a lì. Il libro viene pubblicato nel 75, se non erro. Nel 67, direi. Sì, 67. No, com'è possibile? Sì, sì, 67. Sì, sì, sì. Come mai io ne ho un'edizione così tardi e lo scopro, credo, nel 75? Ah, va bene. Allora, arrivo con... Scusa, ho detto 67. No, ho sbagliato. Scusami. 77. Ah, è. Scusami, scusami. Ho sbagliato, ho sbagliato. No, no, perché... Va bene? Io sono a quel punto molto preso, appunto, da queste teorie, perché studio a Venezia. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. La FGC. Eh, voglio capire l'economia. Comincia a girare questa voce, che sto, sto Lippi, che non so chi sia, che so che sta a Modena, ma è tutto quello che so, che c'è un signore di Stato Modena che si chiama Marco Lippi. Ha scritto un libro sacrilego, un libro, eh? E ho sempre amato tutto ciò che è sacrilego, l'ho cercato, l'ho cercato di pubblicarlo. Mi fa molto piacere che tu abbia quest'idea. No, 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 così mi viene presentato. Ci sono persone che, guarda, il tuo libro, il tuo libro mi ha cambiato la vita, perché ho capito che non me ne fregava più niente di quella roba, finalmente. Beh, sono contento, no? A me convince che proprio tutto l'approccio ricardiano non sta in piedi ed è comunque irrilevante, però mi spinge a studiare meglio, poi anni dopo decido di farlo, ma questa è storia mia. Comunque, sì, quel libro è vero, girava, almeno nell'ambiente della sinistra intellettuale, economica italiana, come una specie di oggetto sacrilego e controverso, che diceva cose che non si sarebbe dovuto dire. Sto lì, ma è più scomunico. Un Giordano Bruno, non lo bruciamo, ma solo perché ci manca il cerino. La legna ci sarebbe. Così. Allora, siamo a questo punto alla fine degli anni 70. Ecco, ora mi succede qui quasi per caso di occuparmi di questioni relative ai prezzi, ma i prezzi intesi come i prezzi dell'Istat, va bene? E incappai nella teoria delle serie temporali, che con Marx non c'entrano assolutamente niente, ma hanno una matematica meravigliosa, una matematica meravigliosa, che è la matematica delle oscillazioni, delle serie di Fourier. E così ho cominciato a occuparmi di quelle cose. Non Box Jenkins come punto di partenza, ma proprio l'analisi. Anche Box Jenkins. Bon Jenkins va benissimo. Box Jenkins è però una, diciamo, è una versione un pochino ingegneristica di queste cose. C'è una matematica profonda, cioè i fondamenti della teoria dei processi stocastici stazionari sono stati gettati da Kolmogorov e da Wiener, capisci? Insomma, è qualcosa di poderoso quello che è stato messo dentro questa teoria. E adesso la insegno, queste cose ho lavorato molto, e mi sono molto divertito, mi diverto ancora, faccio ancora delle lezioni su questo, e mi sono molto divertito a provocare i miei studenti, i quali vogliono sempre sapere a cosa servono le cose che insegni. Adesso sto pensando agli studenti universitari di qualche anno fa, ma credo che ancora sia in questo modo. E allora io li provocavo, dicendo, va bene, allora visto che volete sapere a cosa servono queste cose, adesso vi faccio tre lezioni di teoria dell'armonia. Va bene? Così imparate. E loro dicono, ma questo si porta all'esame? Sì, lei lo porta, visto che me l'ha chiesto. Ecco. Allora, teoria dell'armonia significa che stabilire, insomma, far vedere come la stessa matematica che studia le serie temporali e processi stocastici, studia le vibrazioni della corda di una teleferica o le vibrazioni del cavo elettrico di una ferrovia o anche la teoria dell'armonia che è qualcosa di molto vicino, sono vibrazioni, insomma, e allora li provo, li provocavo, insomma, a un certo punto mi mettevo a cantare, mi mettevo a cantare e gli cantavo Puccini, no? E allora gli dicevo, secondo voi, che differenza c'è in questo passaggio, che voi naturalmente avete riconosciuto perfettamente, questa è la Butterfly, e qui c'è Pinkerton che canta, e gli dicevo, che differenza c'è tra me e Pavarotti? Allora loro mi guardavano, e gli spiegavo il timbro, e gli spiegavo il timbro, cioè che se anche io fossi stato in grado di azzeccare una sola delle note di quel passaggio, cosa molto improbabile, sarebbe rimasto il timbro, cioè la forma dell'onda, è la forma dell'onda il timbro, cioè tra me e Pavarotti la grande differenza è la forma dell'onda, cioè lui ha una voce educata, oltre che essere dotato naturalmente, quindi l'onda che lui emette ha una forma che è diversa dalla mia, che è diversa dalla mia, ma la mia magari ha degli angoli, delle cose brutte, eccetera, la sua. O sulle smutte. Se senti Armstrong, quella è un'onda completamente diversa, ma la nota è la stessa, no? Se senti Bob Dylan, è un'altra ancora. Ecco, allora riuscivo un pochino ad attirare la loro attenzione. Quindi è una trasformazione completa, risolto per una trasformazione, dei valori prezzi, capito che se uno vuole trovare, insomma, analizzare lo sfruttamento in un'economia capitalista, non è assolutamente necessario passare né per Sraffa, né per Riccardo, né per l'attività del lavoro, ma per il potere contrattuale dell'uno o dell'altro, per definire. Perfetto, perfetto. Magari ne parleremo, il Lippi, e siamo a questo punto inizio degli anni Ottanta, torna alla matematica, utilizza la sua matematica, in qualche modo, per fare analisi delle serie temporali proprio ai suoi fondamenti. Quindi teoria, in un certo senso, o cominci già a guardare i dati. Tutte e due. E rimani a Modena, però? Rimango a Modena e poi vengo a Roma. E poi vengo a Roma. Sono tornato a Roma nel 90. Sono tornato a Roma nel 90. Qui c'è una storia molto divertente di Accademia Italiana. Nel senso che io avevo litigato con i modenesi, come vedi in quel mio scritto, e cercavo un posto dove andare. E quindi vado a Bologna, vado a Milano, eccetera. Nessuno mi vuole. Alla fine dov'è che mi prendono? A Roma. Perché? Perché da lì venivo. Questa è l'Accademia Italiana. Stavo per dirlo, ti prendono a Roma. A Statistica, in parte... Perché da lì venivo. Perché da lì venivo. Sono i miei amici. Sono i miei amici. Confermo che quella è l'Accademia Italiana di allora, che non è neanche tempo più lontano a questo punto, perché siamo 30 anni fa. E insomma è abbastanza l'Accademia Italiana di adesso per quanto riguarda i ranghi alti. Sì, temo che sia ancora così. Non lo so, non sono sicuro di quello che dico, però temo che sia ancora così. Se tu vuoi andare da un'altra parte, te lo scordi. Te lo scordi. Cioè, perché loro hanno la fila. Loro hanno la fila di quelli che devono tornare a casa. La gente non si sposta. La gente non cambia città. Non si muove. No? È così l'Italia. È molto così. Sì, sì, beh, è così. Poi devo dire, c'è la fila nei posti di potere. Roma poi, ma questo ci farebbe uscire di nuovo dal seminato, quindi non andiamo lì. I dipartimenti di economia a Roma, che sono abbastanza politicamente determinati, associati attorno a alcuni personaggi, sono luoghi per le persone perché sono vicini al potere. Poi ci sono altri prestigiosi nelle città a cui piacciono. Non c'è che in tutte c'è la fila, voglio dire, c'è alcuni dove la fila non c'è. Sì, sì, sì. Però, appunto... Le università di provincia certamente non ce l'hanno, la fila. Infatti c'è questa tradizione che i figli bravi, questa dura tuttora, dei grandi centri, vanno in provincia a farsi le ossa e poi quando c'è poi c'è sporco. A Roma, prima vai a Pescara, vai a Pescara e poi torni. Esattamente. E allora tu cominci a studiare le serie temporali e cos'è che ti prende di interesse, Marco? Beh, la teoria è molto affascinante. Insomma, tutta la rappresentazione spettrale delle serie temporali che significa la rappresentazione di una serie attraverso onde regolari che vengono mescolate e danno luogo a questo aspetto irregolare della serie ma sotto c'è una rappresentazione come una somma infinita o integrale insomma di onde di oscillazioni armoniche seni e coseni insomma ecco questo è quello che succede. È molto bello è molto molto bello è una teoria molto bella. Un libro di riferimento per chi ci ascolta perché io ecco se c'è un capo conosco un po' la cosa avendo io sono arrivato alle serie temporali molto divertente più o meno negli stessi anni perché nel 77 quando esce il libro tuo nel 77 arriva anche Francesco Giavazzi a Venezia e io prendo il corso di Domenico Sartori serie temporali che è affascinato da Box Jenkins l'ho menzionato Box Jenkins la mia porta ad entrata nell'analisi è Box Jenkins e poi inizio a studiare un po' di di statistica matematica un po' più seriamente che non mi ha fatto con le k k pubblica publate della statistica brutalmente descrittiva ma ecco un giovane economista che volesse senza dover andare all'analisi spettrale del matematico c'è le note di lettura di Marco Lippi non sono state pubblicate non ancora non ancora le conosci? no ma sono certo che ero certo che ci sarebbero stati ci sono ci sono ci sono ci sono adesso bisogna che le metta un po' più bisogna che le metta poi in ordine allora c'è un Granger e Atanaka Atanaka ecco quello è un libro in cui uno trova sia della teoria come? Glyph Granger con il San Diego Glyph Granger sì sì di Granger causale è un vecchio libro ma penso sia ottimo ok quindi Granger Atanaka per chi volesse capire e usando le serie temporali cosa cosa ti metti a fare? usando le serie temporali mi metto a fare allora intanto faccio delle cose sulla aggregazione questo è un po' di sinistra nel senso che mi metto a far vedere mi metto a far vedere che diciamo a meno di condizioni molto particolari il risultato dell'aggregazione cioè se gli agenti non sono tutti uguali e tu hai un modello economico e poi aggreghi degli agenti che hanno dei parametri diversi l'aggregato non è come il microeconomico è una cosa completamente diversa ma questo non gliene frega niente a nessuno tutti usano l'agente rappresentativo adesso c'è interesse adesso c'è maggior interesse per queste cose e e questa è una cosa che faccio anche un libro su questo insieme a Mario Formi che è Aggregation and the microeconomic foundations of macroeconomics questo è un Oxford University Press io conosco ecco e raccomando qui devo dire entri nella la vostra cosa dovrebbe essere sì sono d'accordo che adesso c'è un po' più di di interesse anche se comunque è purtroppo limitato a un certo ambito magari poi appunto nella parte critica adesso ci arriviamo e discutiamo con un po' più di chiarezza e sì Marco arriva alla macroeconomia quando è dominante lo è tuttora va detto anche se c'è proprio dallo stesso mondo che ha reso dominante l'agente rappresentativo che almeno in questo è coerente e cioè dice era un punto di partenza perché bisogna studiare l'eterogenità in cui domina l'agente rappresentativo e qui c'è un atteggiamento fideistico nel confronto del modello aggregato in cui c'è l'agente rappresentativo cioè c'è un solo individuo un continuo di individui totalmente identici c'è un solo bene o un continuo di beni totalmente identici e la funzione di produzione è aggregata ora il tema dell'aggregazione è un tema antico nel senso che per esempio i francesi allievi di Debreu Benassi Grammont hanno scritto parecchio sulla 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 questione a voi perché cioè oltre a dare il risultato il problema dell'aggregazione è il seguente noi sappiamo da Aro Debreu e Sonnenschein meglio da Sonnenschein scusate ho parlato non so perché ho messo Aro Debreu da Sonnenschein e poi dalle generazioni di Mantel e Debreu che il modello di equilibrio generale più astratto è consistente con qualsiasi tipo di funzione di domanda aggregata sì Parva Lichet eccetera eccetera sappiamo anche da Boldrin Montrucchio che nemmeno la dinamica di questo modello è ristretta dalle ipotesi teoriche perché qualsiasi tipo di dinamica è consistente con un modello di equilibrio economico generale intertemporale in equilibrio perfetto e anche qui qualsiasi tipo di dinamica addirittura disaggregata perché il modello ha n settori dove n può essere un miliardo può essere esclusa quindi c'è un problema che è il problema del macroeconomista che dice se uso il modello generale disaggregato uso un modello che è così generico così basso così astrettamente generale che non non mi permette di fare alcun test alcun lavoro sui dati perché dice tutto va bene tutto è possibile chiaramente occorre imporre delle restrizioni occorre fare dell'impoggio vuole dire le funzioni di produzione hanno queste caratteristiche non altre gli agenti hanno questo tipo di funzioni di utilità non altre eccetera e su questo almeno fino alla fine degli anni 90 la ricerca positiva cioè quella che contribuisce un risultato è un po' debole perché tutta la letteratura che io ho appreso in classe precedente di Brostro che è una letteratura a fine anni 60 di persone che facevano un genere equilibrio Gramot Mascolella dice è negativa cioè quando salta questo salta quello ti salta che so gross substitution per esempio è difficile da mantenere gross substitutability e così via ecco il tuo punto di vista su questo problema vorrei sentirlo perché ovviamente è cruciale nell'analisi della materia dunque io in realtà Michele io mi sono occupato di aggregazione di quei modelli che vengono adoperati in macroeconomia quindi ecco io non tocco questioni come quelle che tu hai citato ora cioè ci sono dei modelli molto semplici mettiamo che tu abbia che i consumatori hanno un autoregressivo di ordine di ordine uno più il consumo è uguale a alfa per il consumo della volta prima più beta per il reddito questi sono modelli molto semplici che vengono dalle fondazioni microeconomiche della macroeconomia sono modelli molto semplificati ecco non sono modelli di equilibrio generale nel senso dei modelli che tu adesso hai citato cioè sono modelli è il comportamento di un consumatore e tu trovi non so che il consumo è un random walk va bene? no 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 certamente allora è nella stessa linea perché il grosso del lavoro era sulle funzioni di domanda il grosso del lavoro era la funzione di domanda aggregata dato che gli individui ma qui il modello come posso dire tu stai studiando solamente sì stai studiando solamente il consumo è come un modello di ciclo vitale per esempio stai studiando solamente il consumo e il reddito basta no? e quindi sì già sei però ecco si può obiettare guarda che i coefficienti di questa equazione non si vede perché debbano essere uguali per tutti i consumatori e allora noi facciamo vedere che questo genera non tanto il fatto che si facciano degli errori ma proprio dei cambiamenti rilevanti della dinamica del modello cioè il modello aggregato non somiglia al disaggregato ecco questo è il lavoro che abbiamo fatto e diciamo i modelli ripeto Michele sono molto semplici i modelli da più ci parte sono molto semplici conosci i modelli di error correction sì 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 ecco l'error correction è un modello semplicissimo quello modello che è stato reso celebre da un lavoro di David Hendry e tu hai quindi che la variazione del consumo è uguale ad alfa per la variazione del reddito più un termine di error correction un modello semplicissimo insomma qui sì sì per chi ci ascolta sono in realtà le cose di Hendry arrivano dalla letteratura pre-rational expectation che cerca di modellare questi comportamenti dinamici in cui le persone fanno degli errori però li aggiustano esiste l'analogo in investimento tu hai un un certo target fra capitale che vuoi avere sì 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 autobut e aggiusti certi di arrivare progressivamente non ci becchi mai non ci becchi mai allora ogni volta devi aggiustare ogni periodo aggiusti guardando l'errore che hai fatto la volta prima ma non sono modelli semplicissimi allora si può obiettare guardate che se voi non avete gli stessi parametri per tutti gli agenti insomma il modello che ne risulta è qualitativamente differente dai modelli microeconomici e quindi non si vede come i dati aggregati possono essere adoperati per confermare teorie o per o per o per negarle nel senso che tu non sai che fine fa la tua teoria quando aggreghi gli agenti allora siccome io su questo sono d'accordo per quello volevo sentire il tuo ho lavorato quel poco che ho lavorato ho lavorato diciamo dal lato opposto dal lato della produzione facendo osservare anche ieri il seminario che ho dato qua alla banca del messico mi sono divertito a bastonare destra e a manca a provociare la chi fa l'anagia al ciclo economico con Cobb Douglas aggregate e poi si sorprende che l'elasticità del lavoro l'elasticità di sostituzione che lui ha non vengano rispettate dalla realtà perché la realtà è fatta di tanti piccoli settori dove la gente fa delle cose ma non voglio parlare del mio punto di vista dell'argomento voglio sentire il tuo questo ovviamente appunto ha un'implicazione a tu come sappiamo nella macro specialmente nella macro che viene usata venendo all'attualità nelle banche centrali nei ministeri monetari la macro che le persone vedono alla fine c'è una macro un po' a volte dietro ecco quando dicevo prima gli agenti non rappresentativi come sapete i grandi alfieri forse del modello macro con agenti rappresentativi anche se non è vero perché è un'invenzione di Keynes e su questo poi la dico la mia vorrei sentire la tua opinione l'ha inventato Keynes l'agente rappresentativo in macro l'hanno inventato a Cambridge England non a Cambridge United poi a Cambridge United si è messi d'accordo con John Bates Clark e l'hanno perfezionato in uno strumento di propaganda e di guerra sulla ricerca altrui ma questa è un'altra questione nell'epoca contemporanea i grandi alfieri è Minnesota Prescott Sargent Lucas va detto che oggi le persone più attive nella ricerca macro su modelli disaggregati dove gli agenti sono eterogeni in particolare dove ha a che fare con la disuguaglianza dove i sentieri i path delle serie temporali di reddito delle persone sono eterogeni e rimangono eterogeni per lungo tempo quindi si cerca di capire l'elemento appunto della disuguaglianza di reddito di ricchezza è di nuovo Minnesota in particolare a me piace molto il lavoro di Fatih Guvenen che infatti quando ero a Minnesota ho cercato di assumere per lungo tempo alla fine facendocela dopo essere andato via ma insomma e di altri che lavora Victor Rios Rull e così via per chi è interessato questi sono nomi che non conoscete non sono nemmeno italiani Fatih è turco e Victor è spagnolo più precisamente dalla Sisla Canarias però sono le persone che su questo due fra tanti e ce ne sono altre che lavorano sull'eterogenità in modelli di equilibrio in modelli dove gli agenti massimizzano con le cose che avete studiato non c'è questo aspetto perché è intenzionale secondo te fa differenza diciamo a noi interessava far vedere fare questo punto insomma ecco che prima di adesso forse posso introdurre un'altra cosa cioè poi alla fine noi abbiamo una arriviamo una proposta positiva e questi sono i modelli a fattori cioè noi sosteniamo questo che allora le ragioni per cui nascono problemi di eterogeneità nel passaggio da micro a macro in macro economia sono che non c'è un solo shock nell'economia se ce ne fosse uno solo che guida l'economia non ci sarebbe nessun problema o almeno i problemi sarebbero minimi diciamo non ci sarebbe niente niente di grave nel passaggio dal micro a macro il fatto è che gli shock sono più di uno come è per esempio nei modelli di dynamic stochastic general equilibrio no? cioè tu hai un certo numero di shock che guidano l'economia e poi hai delle funzioni di risposta impulsiva che propagano l'effetto di questi shock ora i modelli a fattori sono un modo per determinare questi shock questo è un pochettino complicato diciamo da spiegare ma facciamo un po' finta che ci sia un po' di conoscenza ecco sì mi starei a spiegare factor analysis principal component di nuovo a che fare con gli autovalori by the way sul di un'altra matrice quella varianza covarianza però sì voi avete scritto svariate cose poi su questo sì con altri autori allora fammi provare posso pure curiosità è per caso un allievo tuo o è un incontro di uno più giovane di te ti scusa forni 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 sì è un mio è un mio dottorando sì è un mio dottorando di modena sì ah ok allora tutto l'hai conosciuto no mai conosciuto personalmente ma siccome ho visto i vostri lavori negli anni abbiamo molto lavorato abbiamo molto lavorato insieme sì allora fammelo dire in un modo ci provo insomma prova a raccontare il punto di questa cosa come? non ho capito prova a raccontare il punto di questo approccio che un approccio sia chiaro statistico non ci sono gli agenti del modellare prova a dirlo in poche parole in poche parole allora il modello fattori è fatto in questo modo il modello fattori di cui noi ci occupiamo insomma è fatto in questo modo ogni variabile macroeconomica ma ce ne sono tante di queste variabili no? cioè le quali sono non so 250 per gli Stati Uniti ecco eh ogni sono le variabili standard più le medesime variabili per eh località per stati per esempio eh e così via e poi eh ci sono le variabili internazionali abbiamo 200 variabili macroeconomiche eh tutte queste variabili sono fatte di una componente che è quella vera più un errore di misura adesso sto esagerando adesso sto esagerando ma lo faccio per farmi capire quindi le variabili sono tutte contaminate ciascuna da un errore di misura se io potessi liberarmi da questi errori di misura eh otterrei una rappresentazione di queste variabili la quale non è più affetta da problemi di aggregazione perché gli shock lì ci sono tutti sono tutti presenti gli shock e quindi eh i problemi di aggregazione sì ce ne sono ma sono minori sono problemi minori ecco questa è l'idea liberarsi di questi errori di misura è qualcosa che viene fatto in questi modelli attraverso una eh operazione che si racconta come la legge debole dei grandi numeri cioè se tu fai la media di tutte queste variabili siccome le componenti quelle vere sono fortemente correlate mentre gli errori di misura sono poco correlati fai fuori gli errori di misura e ti resta qualcosa su cui proietti le variabili e hai quello che ti serve ecco questa questa è l'idea detta in eh venti parole io sono molto fiero di questa rappresentazione che ho presentato delle volte proponendo la costituzione di una associazione per la presentazione onesta dei risultati va bene questa associazione consiste in questo che quando uno fa una presentazione o scrive un paper prima di tutto dice qual è l'idea fondamentale qui va bene e presenta un modellino che è una cavolata ma che è quello che lo ha guidato in tutta questa ricerca dopodiché fa la tecnica questa parte interessante mi spiega molto onestamente una cosa che io ho sempre apprezzato io non è che conosco molto Marco Lippi ve lo dico l'ho incontrato a qualche conferenza sempre a dire a volte non credo siamo mai usciti a cena però ci sono aspetti della personalità o almeno della maniera di fare scienza del signore che io ammiro e che forse cerco di imitare uno di questi è essere molto straightforward su come si lavora su ciò che davvero si è ottenuto su ciò che si può dire e su ciò su cui invece bisogna stare assolutamente zitti e muti e magari non pubblicare puttanate tanto per pubblicare ecco questo di come si lavora no si lavora esattamente così sto pensando al lavoro mio ma di tutti quelli che conoscono c'è un'intuizione un modellino una roba semplice che ti torna e poi provi a vedere quanto il risultato di quella roba lì sta in piedi una volta come si dice il lavoro dove tu hai dovuto sudare sette camisce consiste nel far vedere che in effetti quell'idea si generalizza dei modelli più complicati ma l'idea è tutta in una cavolata iniziale cioè tu sei messo là con un amico e gli hai detto guarda qua se uno facesse questo poi fai la media di queste variabili quello che ti resta è solo questa parte qui il resto se ne va oh ha detto il tuo amico ma certo ma è un'ottima idea e dopo cominci diciamo ma perché non dirlo quando fai un seminario no? questo va detto ma se tu lo dici non fai una grazia quindi alcuni di noi lo fanno io personalmente tendo a presentare il modellino sensiglio sensiglio subito e dopodiché se c'è tempo gli mostro come generalizzare a questo a quello a mia nonna certo anche perché poi l'intuizione con cui si lavora è quella no? e da limitazione ecco l'analisi dei fattori questa rappresentazione se capisco bene voi avete proposto cioè almeno adesso mi viene in mente un paper dove ci sono altri coautori c'è Lucrezia Reikling c'è un che non conosco sì ne abbiamo scritto un bel po' ne abbiamo scritto un bel po' sì in cui costruite ecco perché a tuo avviso questo tipo di strumenti invece non è utilizzato che sono strumenti neutri per quanto riguarda la teoria allora per chi ci ascolta il punto è che sono neutri sui comportamenti questo a me non piace dipende da quello che si vuole fare sono neutri nei comportamenti perché non partono da cioè non sono micro fondati nel senso stretto della parola perché non ci sono gli agenti non ci sono i settori ci sono le determinanti come ha spiegato Marco c'è un'ipotesi dell'esistenza di una serie di fattori fra loro più o meno indipendenti ma non totalmente indipendenti il contributo vostro matematico è non so se vogliamo andare lì ma è eliminare l'ortogonalità se capisco bene eliminare quelle quelle componenti che sono ortogonali l'una all'altra e che noi interpretiamo come errori di misura questo naturalmente insomma è una ipotesi forte ecco cioè è un'ipotesi che ci fa molto comodo ecco e quindi restiamo con le variabili vere autentiche insomma quelle che rappresentano davvero il comportamento macroeconomico del consumo del risparmio eccetera eccetera tutte queste variabili adesso posso scusa per dire un'altra cosa tu stavi dicendo questo non è micro fondato hai perfettamente ragione è così poco micro fondato come poco micro fondato un VAR assolutamente appartiene in un certo senso alla stessa famiglia e la cosiddetta tecnica di identificazione è uguale ma la famiglia è quella cioè tu ottieni qualcosa in cui hai usato un pochino di teoria economica ma non tanta e non hai preteso di dare un modello della dinamica delle variabili una rispetto all'altra una rispetto a se stesse cioè quello lo lasci ai dati questo è il VAR e i modelli a fattori sono molto simili in questo ecco perché il VAR secondo noi ha il difetto che viene applicato alle variabili così come sono ma questo perché spiego perché se c'è qualcuno che fa finanza o banking pensi che il VAR sia perché poi spuntò once upon a time in statistica economica c'era solo un VAR ed era vector auto regression che è la cosa che Marco si riferisce poi a un certo punto negli anni 80 più o meno anni 90 spuntò il value at risk che viene incorrettamente anch'esso in banking lui non sta parlando di vector auto regression hai ragione sì sì la mia funzione cioè è il modello che consiste nel regredire ciascuna delle variabili su se stessa e tutte le altre ritardate tutte ritardate diciamo e quindi si ottiene una rappresentazione che poi viene ruotata per tener conto di restrizioni che vengono dalla teoria economica e quello che risulta è quello che si chiama SVAR cioè Structural Vector Auto Regression ecco lo Structural Vector Auto Regression è ottenuto dopo la stima del Vector Auto Regression prendendo combinazioni lineari degli shock che ne risultano sono degli errori delle regressioni che ne risultano questo è tutta la storia ora quindi in parte è micro fondato perché c'è l'intervento della teoria nel determinare la rotazione che è quella giusta ma in altra parte non è micro fondato perché tutta la dinamica è lasciata a questa regressione che è la quale automaticamente mi sono comprato questo fantastico orologio Apple il quale però ogni tanto quando sente qualcosa di strano mi risponde mi dice cos'è che vuoi ma non voglio niente lascia si succede anche con noi utilizzatori di Android Google che ogni tanto si accende e mi chiede ma cosa hai detto no quella roba non lo so ma io non stavo parlando con te è deficiente parlando con me stesso tu devi pensare Michele se posso interrompere un attimo che i miei figli mi chiamano il gaggettaro i miei figli chiamano me il gaggettaro non io loro come normale loro chiamano me il gaggettaro va bene io ho un figlio non so se mi chiamerebbe il gaggettaro perché anche lui non va male quindi di gadget diciamo che entrambi abbiamo una certa passione per alcuni passione su questo su questo per chi ascolta mi sto bloccando perché non voglio usare la parola sbagliata non sono due scuole ma ci sono due maniere di vedere che a mio avviso non sono in opposto ma vanno comprese uno è proprio l'approccio che Marco sta descrivendo ci sono dei dati aggregati non ho un modello di stile fisico che funzioni bene che mi spiega dove vengono partendo dai comportamenti di Marco Michele Lidio Tonio Lucia Maria Grazia ho sti dati aggregati perché alla fine l'Istat e tutto il resto dati aggregati ci danno ogni tanto ci danno anche i panel e così via però insomma di dati micro distribuiti nel tempo che seguono regolarmente i comportamenti di individui ce ne danno pochi ce ne danno pochi e non è facile insomma non sono dati tali che si possa ancora ricavare da essi per il processo di aggregazione di comportamenti individuali una qualche descrizione ragionevole del sistema economico complesso quindi usiamo questa stima del sistema economico e cerchiamo di modellarle siccome ci interessa capire dove va e se è possibile prevedere un pochino su questo vorrei sentire l'opinione di Marco in che senso si può prevedere o esistono strumenti statistici che prescindono dalla descrizione dettagliata del comportamento individuale che cercano di rappresentare questi dati poi siccome devi dargli un'impretazione economica perché sono puri strumenti statistici devi sì fare delle ipotesi non nei VAR che io non apprezzo ma che è che ci sono gli shock di domanda e gli shock di offerta che nella mia testa dicono assolutamente niente sia chiaro però lo descrivo e allora se la parte random ha effetti di lungo periodo allora è di offerta se invece è transeunte è di domanda voi ne utilizzate degli altri criteri magari dopo ce li spieghi ma voi avete un'opinione su il senso in cui questa maniera di modellare le serie aggregate dovrebbe essere utilizzata perché se ho capito bene voi avete proprio proposto un indice di ciclo per i paesi dell'area euro o qualcosa del genere quella però è un'altra cosa Michele quella è un'altra cosa è molto è un'altra faccenda un'altra faccenda scusa fammi intervenire un attimo su quello che tu hai detto ora a noi va bene cioè noi non protestiamo contro il shock di domanda il shock di offerta noi protestiamo contro l'uso dei dati aggregati così come sono ecco perché in questo modo succede questo se tu hai due variabili se tu hai due variabili estimi un var ottieni due errori va bene supponi che queste due variabili in realtà siano guidate da uno shock solo non due perché ne trovi due ma è evidente perché le due variabili hanno insieme all'effetto di questo shock anche la contaminazione degli errori di misura bisogna liberarsene ecco questa è la nostra pretesa noi vogliamo ottenere le vere variabili questo è Michele la stessa cosa che fanno i Dynamics Stochastic General Equilibrium quando parlano di concepts loro hanno i i concepts sono le vere variabili loro modellano non le variabili che tu osservi ma modellano i concepts il consumo il reddito eccetera eccetera poi siccome i concepts hanno delle relazioni che non possono essere osservate per le variabili aggiungono all'ultimo momento errori di misurazione come dici? aggiungono errori di misurazione esattamente i concepts vengono riconciliati con le variabili attraverso l'aggiunta di errori di misurazione allora noi proponiamo di ottenere i concepts di ottenere i concepts liberando le variabili a prescindere dal modello economico micro ma questo è il problema su cui non è che voglio proprio impiccarmi ma siccome i concepts sono model dependent il consumo non è sempre lo stesso la parola consumo denota tanti tipi di consumo include durable non include leisure non leisure servizi non servizi insomma è model dependent quindi non è che c'è un unico concept c'è il concept definito all'interno del modello questo è l'argomento di tutti coloro che sostengono che l'unica econometria che va fatta è quella strutturale esistono dei modelli i concetti le cose che vanno misurate appunto i concetti i concepts le variabili sono quelle definite nel modello e sono quindi interne al modello in un altro modello si differiscono altre variabili magari gli si dà lo stesso nome ma sono delle altre cose e quelle vanno stimate quindi non è che puoi da questo punto di vista non puoi eliminare l'errore di misurazione sempre indipendente dal modello perché sotto alla tua definizione nel factor analysis c'è c'è comunque un modello di consumo in questo caso quello definito dall'istituto centrale di statistica noi riteniamo che il modello definito dall'istituto centrale di statistica sia un concept più un errore di misura quale concept sia questo diciamo dipende molto sì certo dall'applicazione che stiamo facendo capisco il tuo punto insomma e accetto la tua la tua osservazione anzi bisognerà che ci pensi no no a me va meno d'accordo che è quello definito dall'istituto che fa errori campionari fa errori bisogna che ci pensi certo se tu prendi un modello perché la pretesa è quella di mettere un modello dynamic general equilibrium contro un modello a fattori e vedere cosa succede naturalmente bisogna essere chiari sì per la verità quello che abbiamo fatto finora è piuttosto un confronto tra modelli che sono che sono estremamente semplici qualche volta sono anche con dati simulati eccetera insomma sì ho capito è un ho capito il tuo punto e ci devo pensare e ci devo pensare ma questo è un problema sia chiaro annoso per tutti in economia faccio l'esempio più di scuola ce ne sono svariati no come tutti sapete in molti modelli anche gli azienti eterogenei le persone scelgono fra consumo e lavoro ora il consumo nella funzione di utilità hanno consumo e tempo libero no devono scegliere del tempo totale che hanno a disposizione quanto utilizzare per ciò che si chiama leisure tempo libero e quanto utilizzare per il lavoro sul mercato e nel consumo quanti beni comprare ora è ovvio che questa nozione è parziale perché beh perché una parte del tempo cosiddetto libero noi lo utilizziamo per produrre beni di consumo si chiama home production una vecchia osservazione fatta da credo come si chiama schulz mai defunto premio nobel iowa chicago un popo dei padri assieme a minser dell'analisi micro dell'utilizzo del tempo che giustamente dice c'è una grande parte di ciò che ci dà utilità e consumiamo lo produciamo noi lo compriamo sul mercato ci cociniamo le patate ci puliamo le scarpe e che ne so facciamo ginnastica e così via guardiamo la televisione e questo qua come lo metto ovviamente tutto questo consumo e produzione non viene misurato dagli istituti centrali di statistica quindi non c'è né nel consumo né nell'attività lavorativa è tutto tempo libero però in realtà la teoria teoria si 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 parla di consumo anche in mente il fatto che ecco io in questo momento Marco e io stiamo consumando lavorando un po' di tutti e due perché ci stiamo anche divertendo però tutto questo non viene misurato dall'istituto centrale di statistica che è valore aggiunto speriamo almeno spero io per la parte mia che non sia valore sottratto ecco che sono questi tipi di problemi che a cui volevo fare riferimento e sì sono sono d'accordissimo sono generalizzabili a qualsiasi misurazione che va del punto dove voglio andare a tuo avviso questa è la parte un po' ci avviamo verso la fine forse un po' più polemica da parte mia ma un po' ci vuole io odio il keynesismo mi sembra una cosa sciatta antintellettuale volgare pensata per parlare con politicanti e banchieri centrali poco istruiti perché hanno fatto gli avvocati d'affari perché a tuo avviso nasce a un certo punto questa macro che prende le entità della contabilità nazionale C I G I Y X M e gli dà vita per cui c'è l'agente rappresentativo che consuma l'imprenditore rappresentativo che investe la fabbrica rappresentativa che ha il capitale rappresentativo il lavoro rappresentativo e produce l'auput rappresentativo che sono quelli misurati dall'Istat o dall'Eurostato da chi volete voi e che sono assolutamente omogenei e noi ci infiliamo a testa boom dico noi come professione magari i due presenti meno no? Molto meno anche perché non c'eravamo non c'eravamo dico quando negli anni 60 70 80 c'eravamo sì sì ma voglio dire il keynesismo dopo la guerra esplode dopo la guerra esplode e adesso di questo si adesso di questo si parla la tua visione di questa roba qua io trovo dal punto di vista della ricerca scientifica delirante però però insomma è dominante quella che c'è beh ormai ormai non c'è più questo ma direi le banche centrali quello fanno usano le curve di philips per modellare c'è il modellino dominante si è ridotto al modello ISLM di nuovo sì però si può cambiare perché ci sono le aspettative ma insomma sì i modelli delle banche centrali sono dei grandi pasticci perché poi hanno hanno tutto loro hanno il modellone keynesiano no poi hanno il dynamic general equilibrium stochastic general equilibrium hanno anche quello poi hanno il modello a fattori li provano tutti cioè insomma non guarderei tanto le banche centrali no cioè le banche centrali insomma non è che possono sposare una delle teorie del tutto no una e tu vorresti vedere le banche centrali no le banche centrali hanno sposato platealmente una teoria che ha dentro a sé una specie di colonna d'acciaio di cemento armato molto più potente dei piloni del ponte che collegava la Crimea alla Russia continentale e che si chiama la curva di Phillips che si chiama il fatto che siccome i prezzi si aggiustano non immediatamente esiste la possibilità di creare aspettative ma la curva di Phillips può essere incorporata con le aspettative razionali sì 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 quindi ma sto dicendo tutti questi modelli sono uguali in realtà nel senso che sono tutti modelli nei quali esiste una curva di Phillips e gira quindi sono diventi profondamente keynesiani in quel senso non nel senso del vecchio Keynes ma nel senso che esiste l'idea che posso manipolare la disoccupazione la produzione la crescita però non li chiamerei Keynesiani perché diciamo l'idea delle aspettative razionali è la cosa più antiche Keynesiana che ci sia no? qui ecco vedete quando si discute con perciò qui torniamo al vecchio dibattito su Keynes and Economics and Economics ok sì sono d'accordo questo è Leonus questo è Leonus però non è la maniera in cui oggi i nostri colleghi no perché diciamo tu hai bisogno dicono va bene non siamo aspettative razionali però intanto rimane il problema dei prezzi sì cioè tu hai bisogno di agenti tali che se tu cambi politica economica loro stanno fermi non ne frega niente no? cioè per cui tu fa questa è la scusami questa è la critica di Lucas no? cioè tu hai bisogno di agenti che si fanno fregare sempre no? e nello stesso modo sì io sono d'accordo Marco che l'idea di fondo sia quella che c'è bisogno di agenti che si fanno fregare sempre dagli interventi in politica economica e che siccome è ovvio Lucas l'ha poi formalizzato ma insomma che gli agenti economici magari si fanno fregare un po' di volte ma non sempre come avete visto per esempio le reazioni dei mercati all'inflazione sono la prova che non si fanno fregare sempre per un po' hanno creduto all'idea che potesse essere stazionata temporanea anche se le banche centrali e i governi continuavano a fare politiche fiscali e monetarie assolutamente inflazionistiche poi a un certo punto hanno detto no ciccia tu vuoi creare inflazione pesante e io mi aggiusto facendo crescere i tassi di interesse alle stelle sono d'accordo scusa lascia che finisca sono d'accordo di questo e che questo sia l'essenza in realtà dal punto di vista chinesiano cioè che poi pull the agents i modelli che vengono utilizzati sono piuttosto arzigogolati infatti io li trovo di scarso interesse perché sono assolutamente bizantini e cercano di mantenere insieme l'idea che le aspettative sono razionali cioè che non puoi fool the agents con l'idea che comunque la banca centrale riesce a indirizzare il sistema economico dicendo dove quello che farà insomma questa cosa che chiamano forward guidance no? segnalando quello che farà nel futuro e creando aspettative che vadano dove vuole lei sì è un po' brutale ora scusa scusa Michele ma non si può sostenere che c'è una c'è un lucas teorico no? e poi però diciamo se tu fai il banchiere centrale le cose sono un po' più complicate cioè non puoi applicare lucas così cioè devi tentare di vedere se appunto a dispetto del fatto che gli agenti sono molto più intelligenti sto provando a dare non ho pensato molto a queste cose quindi quindi non sono così impegnato in quello che dico cioè a dispetto del fatto che gli agenti sono molto più intelligenti di quello che si pensava tuttavia pensano i banchieri centrali forse non sono neanche così intelligenti come pensa lucas no? e quindi qualcosa si può fare cosa dici? allora ho aspettato a dire ho chiuso l'audio invece poi ho guardato e l'audio era aperto e qua ciò dipende nel senso che ecco dipende un po' e sto tenendo in considerazione il pubblico a cui ci rivolgiamo per quanto riguarda la public at large cioè la gente che legge i giornali informata quel 10% che è capace di capire poi poi il 90% che non segue assolutamente esiste invece un banchiere centrale nella forma di centri studi che può capire tutto e che fa tutto e che ha queste potenze e lo vediamo in questi giorni l'attenzione alle dichiarazioni di Powell di Lagarde il ruolo della banca centrale inglese nell'impedire che non sacrasse il paese facendo gli annunci sbagliati e in quel mondo su quei giornali la discussione in quei termini ma anche sull'economist non solo sull'inserto economico del Corriere la sera che magari non è il top del mondo ed è nei termini che abbiamo detto poi nel lato della ricerca scientifica certo vi sono opinioni diverse però devo dire ecco qui magari vorrei sentire l'opinione tua anche su come può andare la ricerca in macro il genere equilibrio nel futuro mi pare che anche da parte dei colleghi che continuano a fare ricerca su quel terreno l'attenzione ai meccanismi che tu hai in mente cioè quelli disaggregati quelli di errore di previsione sia abbastanza poco presente e che vi sia un forte consenso nel modellare varianti di quello che descrivevo prima di quello che è noto come il Neo-Keynesian model appena questa è l'impressione mia ma la dico per stimolare una reazione sì sì no non lo so non lo so non lo so mi prendi impreparato non ci ho mai pensato a questo ecco mi è sempre sembrato che sì certo quello che noi vediamo è qualcosa che man mano che si avvicina ai dati diventa sempre più compromissorio sì certo hai bisogno di una relazione hai bisogno di qualcosa una terror rule qualcosa che ti serva che sai che funziona bene sai che in passato ha funzionato bene ma questo sì lo fanno anche gli ingegneri lo fanno anche gli ingegneri semplici dei no ci sembra che i loro ponti abbiano una stabilità nei comportamenti che i mercati gli esseri umani non hanno quindi il comportamento precedente del porto è stato da una certa forza se tu chiedi a un ingegnere perché quando colpisci la palla con l'effetto questa gira in quel modo inizialmente lui ti dà un modellino semplicissimo una cosa che mi affascina molto il colpo d'effetto lui ti dà un modellino semplicissimo poi se continui a fargli domande eccetera alla fine ti dice oh ma non è che si sappia proprio bene questa cosa per esempio c'è una cosa che è strana cioè quando un calciatore colpisce la palla con l'effetto la palla va abbastanza dritta finché gira molto che è strano perché è paradossale sembra che più giri e più dovrebbe curvare quando arriva a girare lentamente improvvisamente curva e il povero portiere non ci capisce più niente perché gli gira improvvisamente la palla e questo è il contrario di quello che un modellino semplice darebbe perché un modellino semplice direbbe che siccome la palla gira allora da una delle due parti l'aria corre più velocemente che dall'altra e quindi la palla viene spinta in quella direzione ma questo è il contrario in parte di quello che fa ecco questo scusa non so se è utile quello che sto dicendo ma insomma quando ti metti a fare l'ingegnere un'altra cosa che mi diceva questo amico ingegnere per esempio sono le palline da golf che sono tutte bucate no? sono tutte bucate le palline da golf e questo fa sì che vadano a 300 metri beh hanno il vaiolo hanno sì 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 sono tutte bucate e sì sì c'erano tutti quei buchini tu mandi tiri con una mazza ma la palla va a 300 metri una cosa pazzesca insomma ecco e lui mi diceva appunto non è che si sappia benissimo si sa che va così io avevo un amico fisico che non voleva andare in aereo perché sosteneva che nessuno sa perché un aereo vola lui esagerava però era un po' esagerata il fatto è che lui aveva una paura un po' esagerata sì il grande vantaggio è che il livello di incertezza del fisico attorno appunto a come l'aria fluisce per esempio attorno alla pallina alla pallina di golf è un livello di imprecisione che è non lo so 10 ordini di grandezza inferiore al livello di imprecisione nostro sul sapere cosa succede a quell'altra azienda quando i tassi di interesse praticati per il termine della banca centrale crescono di 75 punti base che è un po' il dramma della cosa era questo che volevo un po' capire qual è il tuo punto di vista sì che non riesco a contraddire nel senso che temo di non aver la limitazione del modello ci si avvicina con grande cautela il problema finale aggregato di pericolazione e si dice insomma ecco nella misura in cui per esempio alla banca nelle banche centrali si sostiene che i vecchi modelloni vanno abbastanza bene per modellare da qui a 10 anni ma non l'anno prossimo che è una cosa che io non ho mai capito io non ho mai assolutamente capito come sia possibile io lo dubito totalmente io lo dubito totalmente che vadano bene per modellare da qua la settimana prossima in situazioni normali ma quando succede qualcosa di drammatico una guerra o una epidemia o sballano completamente infatti su quello questo d'accordo ma quello sballano un senso nella letteratura scientifica su quello sballano tutti quanti questo d'accordo il mondo localmente è lineare come sappiamo il problema è che non lo è globalmente Marco mi pare che è stranissimo perché non riesco io amo creare discussione però insomma che con te non ci sono riuscito tanto questo mi beh insomma abbiamo abbiamo recuperato un po' abbiamo recuperato un po' sì ma non e beh per finire torniamo ab origine ab origine a tuo avviso a tuo avviso oggi nella per quelli che pensano che il mondo non vada esattamente dal lato giusto cosa ci serve da studiare lasciamo stare la politica ma da studiare esattamente Marco Lippi di 40 anni fa io adesso 40 anni fa veniva la trasformazione sì era un problema fondamentale a un nuovo novello Marco Lippi se dovessi cercare senza alcune intenzioni di danneggiarlo ma proporgli un problema vero interessante da studiare cosa gli proporreste allora una cosa io sto rilavorando come avrai forse capito su Marx e lo sfruttamento mi sono rimesso me l'hai menzionato sono curioso ti ballerò una cosa appena sono pronto insomma sto lavorando insieme a un collega e amico che si chiama Marco Magnani che è stato per molti anni ricercatore della Banca d'Italia e stiamo tentando di tirare fuori qualcosa che ha a che fare con le ultime cose che dicevo ieri insomma ecco forza lavoro e come viene determinato come è fatto il rapporto tra forza lavoro e capitale in parte come è fatto oggi no e se ci sia qualcosa che lo accomuna al modo in cui si pensava che fosse questo rapporto un tempo questa è una cosa e l'altra cosa vuoi che ti dica uno alla fine fa la propaganda le cose che fa insomma no modelli a fattori modelli a fattori modelli a fattori da un lato Marco Lippi non è cambiato molto da un lato pensa ancora ritiene ancora che esista che sia il caso di ragionare sulle forme dello sfruttamento che sia definibile sono molto curioso di vedere come lo definirà il Marco Lippi del 2022 e che dall'altro per quanto riguarda invece il capire i dati forse cercare di stare ateoretici per l'obiettivo dei modelli della nostra capacità di applicazione di usare la statistica con grano salis è la maniera la maniera di fare posso dire un'ultima cosa assolutamente assolutamente a proposito del primo tema del primo tema ti dico una cosa brevissima su cui appunto stiamo lavorando è una banalità ma mettiamo che noi ci siamo alla fine messi d'accordo che in fondo possedere capitale non è una cosa disonesta non necessariamente e che quindi il capitale ha anche diritto a una parte del prodotto netto questa è una cosa tuttavia nelle epoche che precedono il capitalismo la parte del prodotto netto che andava al signore veniva consumata dal signore semplicemente cosa ne faceva donne vino pregiato pellicce gioielli armigeri e così via il capitalismo eh marazzi quadri sì sì insomma era era una il rapporto era questo il diritto ad avere una parte del sovrappiù del prodotto netto come lo vuoi chiamare non significa però che tu possa farne quello che vuoi perché tu fai del prodotto netto è rimasto socialista come? non ho capito è rimasto socialista signore certo non si dice che tu possa fare quello che vuoi cioè se tu confronti questo con le teorie della giustizia le teorie della giustizia non ti danno il diritto di farne quello che vuoi che che ne dica Nozick cioè tu certamente hai diritto a una parte del prodotto ma quando lo usi tu stai cambiando la mia vita vorrei dire qualcosa in proposito io su questo sono perfettamente d'accordo quindi aspettatevi appena leggo i testi del professor Lippe una discussione questo è questo è potrebbe essere il socialismo insomma ne parliamo no è il socialismo ecco adesso non vorrei che però tu mi mandassi un mi mandassi un'ambulanza per portarmi via e quindi no no io anzi devo dire che sei perfettamente in linea con il socialismo che io invece credo sia dannoso ma siccome viene una persona intelligente che io stimo ho appena detto appena mi mandi le note capisco meglio cosa hai in mente benissimo prossimamente su questi schermi sarà fra un mese sarà fra sei benissimo avrete un dibattito un po' più acceso sul tema se potessimo discuterne sarei felicissimo signori grazie per l'ascolto Marco grazie non l'ho fatto all'inizio perché sono un caffone io ringrazio te grazie per la disponibilità veramente generosa e niente alla prossima e grazie di nuovo a Marco Vitti grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori